ok ci siamo ok in un nuovo partito ok epic boss che sta giustizia no ma che stasperazione se non inizia allora venite tutti qui dove state ragazzi seguite me perchè non ho un solo ah, ecco ok dove siete scendete sotto estate fermi mi sono lanciato sono fermo sono attaccato al muro sono attaccato al muro e vado a fuoco ok cc ok venite seguitemi veloci hai l'elemento che ti sta malissimo di nuovo appuntino ve lo do a voi poi dopo dai a me perchè con la mia schiena stata a vendita un po' di blocchi di legno e trasformateli in legno a barre veloci a legno a barre si va bolle che come cazzo si chiamano i cosiddini ah si però lì perché si venite veloci 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 ah mi sta che ti intendi seguitemi in questo slalom in mezzo agli tutti gli alberi mb ragazzi approfitto del video per iniziare a dirvi qualcosa sul canale lo sto facendo video per la connessione l'ho detto 15 volte nel video precedente c'è nell'ospezione precedente realtà gli e mi daremo a mano e no e questi due ragazzi molto questa mucca e questo uomo che vedete qui davanti e uomo però il terreno ora i miei collaboratori e ti ho messo il ora il metodo ruzzo nono di fare ok ma cosa dovrebbe essere questo un pene colorato veloci 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 ma c'è un pene colorato dove c'è un pene colorato dietro di noi è vero un pene colorato lol venite scatti della connessione dannata venite veloci che siamo arrivati dai ragazzi trasformatelo in cosi lui vuole trasformatelo in blocchi dai venite stiamo per uscire dalla mappa quick stiamo seguendo quick per uscire da una mappa con un bug che fixeranno molto probabilmente sì perché c'è un bug un buco nel vetro da quello che cazzo spero non vedano per i pezzi qui di percorso allontanò un po' il microfono attrò qui dopo al quadro di piazzarlo perchè a votato più vicino dammi blocchi di regno va che finiti faccio paio di pecchetti mancia mi sentite chiamare nesquick quick fire perchè su skype si chiama nesquick mi è più comodo chiamarlo nesquick prendete altro legno che serve acqua il bucoli intendi porca miseria non me ne raccordi pigliate altro legno e il lato di di questo carattoporto esatto se sei un'ambiente anzo fa adesso scommetto che prima della fine città 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 mente sono invisibili e si e si teleportano dei player quindi finiremo fuori spostati centici no fermo poi non possiamo più salire noi città ma chi ha detto a perdere sono un canto pro o dopo dobbiamo allontanarci ho paura di essere lui e lui il derpino di qualche rimane e io devo spaccare tutto qua inizio a minare io ho paura ballottaniamoci se poi trovano la cosa la 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 torre di hai ragione tanto mola e coca e no allontana abbiamo tutto un mondo a disposizione si scommetto che tante di saremo un albin che ci banno tutti che è così che assisterete al nostro panne dm mettete il mio papà si si banno e così metti a posto quel microfono d'arpino se non ci bannano non avremo neanche un mi piace per colpa tua ecco ma perché vuoi garbana sport scoperto si è stato bannato no sto scherzando in chiama i fattori di armani riportate il cubo ah no cibo chiuso si ragazzano delle bistecche scagazzo anche a mesclic fate una traccia in cui bull la patria e c'è agli stecchetti che ci passò io sto scavando e non trovo un fruttuto dungeon ho trovato il legno sottoterra no scudo ho trovato una bistecca per me buio aiuto ma oddio son caduto sotto ma io ti avevo scagazzato le bistecche non le cagate toccamo delle rotaie perchè non me la prende vabbè io perchè ci sono delle rotaie esploriamo questa mappa dovrebbe essere ma che cacchi dove stanno esploriamo la pratica e delle rotate ottimo qui la città ragazzi guardate che qui c'è un posto è la città ne siamo tornati alla città quelle sono le ferrovie siamo degli esploratori ragazzo che sta spaccando io ero chi è che sta spaccando il cazzo sta spaccando no veramente guardate che siamo tornati in città questa quella ferrovia come è possibile troveranno ma siamo tornati o merda che è vero niente e dove esploso venite su siamo tornati in città no no ci sono dei ragni ragazzi io direi che allora siamo in città direi siamo in città cacchio non siamo in città figa siamo in raggolandia esame in raggolandia vediamo adesso spacco sopra e vediamo se usciamo sulla città o se usciamo nella città presto e nientum bestena화 commenti contro nesquick bad bolly io vedo se riesco uscire in città ragazzi c c c sì contento io so che tram lometti per anno bo letter oh merda ci sono mille mila scheletri aiutatemi aiutatemi sto si basta sai non ho io il piccolo morendo sto morendo sto morendo sto morendo nesquick morirà no voglio filmare la tua morte no sto cacchio adesso scendo vedo se porca miseria mi sto muovendo come un drogato al mercato oddio dove siete ragazzi siamo di sottos e l'attocchi sono sceso sotto sto venendo da dove siamo all merda altri schede anno siete voi minchia mi è venuto un infarto wow che complimenti torniamo a dove eravamo prima cacchio non c'è la città sopra è la città ah qui continua più avanti dove è chiuso siamo dei pro no 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 non ucciderlo siamo dei fucking pro qui cosa c'è venite in qualche proviamo ad esplorare dello sito inesplorato c'è non è un film no li lascia il vetro mi ricordo il gps o l'iphone con il navigatore in mano vieni da notare il bellissimo braccialetto sulla manina di epic boss dove cacchio seguici ma io non a me non mi si carica la mappa e sei bloccato ci sono stati blocchi davanti e anche quelli sotto i piedi lol si è rimasti in cinque tampone gli admin si teleportano da noi e ci sbattono ma noi non abbiamo una spada ci sbattono io ce l'ho io ce l'ho aspetta che vado alla crafting table datemi degli stecchetti potete qua non abbiamo degno non mi vomito della pietra dolore vi faccio le spade ma posso one shot party siamo in quattro e siamo qui i nostri tre impavidi avventurieri in un'ambientazione degna di mille mila spade siamo qui gli intrepiti avventurieri in un'ambientazione degna di silent hill si siamo arrivati dai tre grande oltre spade sono il pezzo di zoro troppo mille mila spade siiii ho tre spade sono quello di one piece tanto ci pannano perchè sono quello di one piece mi devo mettere la spada in bocca come si fa si chiama zoro comunque se non so che qualcos'altro e e perchè sei fermo non sono fermo sei fermo io ho chiesto che ti faccio il pro no vieni qua io ti vedo fermo muovito alla spada ma come devi fermare? ahio ah ma che succede sto server e io mi sto muovendo in realtà può testimoniati youtube ma se io ti picchio non ahia io guarda posso picchiare il nulla e ti centro mettiti davanti lo uccide e finisce qui l'anger games perchè è stato killato io e derp e continuiamo ad esplorare sono stato killato da derp è molto bello grazie della freccia in fronte grazie ma io te lo stavo messo in una ganga e bon ma qui sono anche nella rotula e ragazzi si termina qui ciao da epic boss pergo pergo ma scritto m scusate sto parlando sto cercando di parlare ciao da epic boss da da nesquick e da guardate aspettate dall'essere inutile verbi il mufflone io perchè io ciao 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 ciao